Salve ragazzi, sono Carlo Navodano Oggi abbiamo altre domande La prima un po' particolare Ce la fa Frank il pompiere Fai sempre il fenomeno Sembri il più grande scopatore del mondo Umiltà Ah, questa non è una domanda, è un'affermazione Allora, mio caro Frank Che tu ci credo o no Sino a poco tempo fa Ero la persona più insicura di questo mondo Non ho mai amato vantarmi Né delle mie prestazioni Né delle mie qualità Né delle doti Mai di nulla Avendo poi aperto un sexy shop E dando consigli in giro Mi consigliarono appunto di aprire questo canale E ti dirò Dopo anni So che sembro presuntuoso Però dopo anni Esponendo appunto le mie insicurezze Poi alle mie partner Ho sempre avuto rispondere Ma perché ti preoccupi? Ma tu veramente fai? Ma hai capito che cosa c'è in giro? Una volta una ragazza mi disse Sai perché eccelli sempre? Proprio perché sei umile Proprio perché credi di non essere mai abbastanza Ciò mi ha portato sempre ad eccellere E sono arrivato al punto in cui Ho capito che Obiettivamente qualche qualità in quest'ambito ce l'ho Quindi non è presunzione Ma consapevolezza Beh anche è vero che nella mia vita Un paio di volte ho flopato Perché magari la persona non mi interessava Non mi piaceva Ci può stare Però ti dico la verità Io sono una persona che va sempre sul sicuro Diciamo che ho avuto pochissime esperienze negative Ho sempre dato il meglio di me Quindi la mia sicurezza me la sono guadagnata Per il resto del mondo può pensare ciò che vuole Io purtroppo ho per fortuna Devo esporre ciò che sono e ciò che faccio Poi abbiamo Ah abbiamo un altro fan che ci scrive spesso Carlo Perso Mi intrigano gli scambisti Mi piacerebbe provare Che ne pensi Allora Dipende da come ci vai Cioè se ci vai da solo O ci vai con la tua partner Perché gli scambisti A parte che frequentano luoghi appositi Però ci sono quelli che cercano Chi subentra nella loro coppia Oppure cercano La coppia che subentra tra di loro Quindi dipende da come Da cosa vuoi fare Cioè da Se vuoi andarci da solo Se vuoi andarci da solo Io ti dico la verità Vai Tranquillo Perché può essere solo un'esperienza in più In coppia Ti dico la verità Io sono un po' contrario Cioè io se avessi la mia donna Non la porterei mai In un locale del genere Perché non ce la farei A vederla sotto le mani di qualcun altro Non lo so Sarà un limite Però Dico che nella vita Tutti possono tutto Ma Bisogna avere determinati limiti Ci sono persone che lo fanno Però ti dico la verità Non riuscirei Non riuscirei a far A far donare la mia donna ad un altro Giustamente tu dici Vabbè ma se vado io Comunque Chi ci sta Donna La propria donna a me Sì ti ho capito Ma il problema non sarà tuo Sarà appunto Della persona che Concede la propria donna Ovviamente sono scelte Sono pensieri Sono abitudini Non giudico Chi Fa Dedica Cioè chi si dedica a queste pratiche Però ti dico la verità Se dovessi portare la mia Lei no Se dovessi andarci io Cosa che mi è capitata Sì ci andrei Perché è un'esperienza Quindi Da solo ti consiglio di farlo Poi abbiamo Valerio Zanelli Che ci chiede Vorrei regalare Un kit BDSM Alla mia tipa Ma se si offende Se si offende Lo richiudi E lo riponi Nel cassetto Non Alla fine Credo che Un po' tutti Conosciamo le nostre partner Se è una persona Che restia proprio A fare determinate cose Credo dovresti farci Un discorso Preventivo E appunto Dirle che magari Vorresti provare Questa cosa nuova Cosa che non è sbagliata Anzi lo dico sempre Nei miei video Parlate sempre Con le vostre partner Perché se avete Delle voglie E non le esponete È peggio Perché ve le tenete dentro E prima o poi Scoppiate Oppure Andate a finire Sul tradimento Cioè Tradirete la vostra lei Con chi Vi permetterà Poi di fare quella cosa Quindi se ci tiene Alla tua partner Parlaci molto tranquillamente Vedi cosa ne pensa Alla fine È comunque una questione soggettiva Se a lei non piacciono Determinate cose Non credo che tu Possa costringerla Quindi Ancora prima di acquistare Magari Chiedi Come ultima domanda Abbiamo Ti voglio dire 94 Che mi chiede Mi fai troppo divertire Qual è la cosa più brutta Che ti è capitata a letto Riflettendoci La più brutta La più brutta Sì ce l'ho La più brutta È aver trovato Una partner Che aveva Una cattiva odorazione Delle parti intime Ciò Non è sempre Dipeso Da una cattiva igiene Ma Ci sono È proprio Il pH Della pelle Difatti ci sono Donne Che hanno Secrezioni Molto acide E non è Appunto Causata Dalla cattiva igiene Che è una brutta cosa Difatti Quando Scesi giù Mi manco il fiato Però Lì per lì Per non far brutta figura E non farla Farla rimanere male Proseguì Ma fu una bruttissima cosa Perché Mi rimase Un bruttissimo Sapore Sapete quando nel film Ti metto una spazzolaccia Feci una cosa del genere Dopo Consumai una bottiglia Di colluttorio Però Non lo potetti dire Per non metterla A disagio E Sì Credo che sia questa La cosa più brutta Che mi sia capitata A letto Per oggi è tutto Noi ci rivediamo Nel mio prossimo Video Ask Ciao Ciao